Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio nuovo video e nel mio canale. Come ho già detto nel video precedente, è saltato in live su YouTube per la diretta dei Grammys di domani mattina e quindi farò comunque le reaction alle esibizioni e magari commenterò qualche red carpet. E intanto però volevo fare il video delle nomination, di chi è... vabbè, delle nomination, ok? Parto. Facciamo sta... Vediamo un po' chi è nomination perché vi giuro, troppe cose, troppe cose. Record of the year. Allora, per la canzone, intanto io... metto comunque il video, lo sapete? Commentate, ditemi la vostra, secondo voi che vince, voglio sapere. Secondo me, oh, Formation. C'è un pezzo così, è bellissimo. Io adoro anche Seven Years, però dai, Formation è pazzesco. Album. 25. Qua si giocano. Ah, cazza, roba. Ah, porca, troia. Yus. Oddio. Eh, oddio. Raga, per me l'album di Justin Bieber, non me ne volete, però è... è stato un bello... è un prodotto bellissimo. Song of the year. Oddio, Song of the year, io sono ancora con Formation, assolutamente. Oh, Formation of Seven Years. Andiamo avanti. Best new artist. Chainsmokers. Io vado proprio così, eh. di botto. Chainsmokers, assolutamente. Best pop song. Hello. Ora. Love Yourself. Ma a quale si riferiscono? Dangerous woman. The woman. Ok. Oddio mio. E quella di Carly Clarkson? Io non l'ho sentita, ma solo performance. La mia orsef si riferiscono a quella che ha fatto... che fai in acustica. Io se non l'ho ancora vista, che fa. Oh, mamma. No, Adele, no. No, basta. Basta. Vado per Ariana Grande, che mi è piaciuta molto. Mi piace sempre tanto. Poi non lo so, ragazzi. Ditemi anche voi. Best dance. Electronic. Ditemi voi. Cosa c'è, no? Go Rock? Country. Ah! Cavolo, ragazzi. Io vado per conoscenza. Kid Urban. Ma non lo so, perché magari gli altri sono pazzeschi. Sono ignorantissime. Oddio. Best Rock. No, io vado per i Wizard. Wizard. Pop vocal album. Ancora. Pop vocal. Beh, ragazzi. Oh, mio Dio. Sia. E sia, sia. Oh, no, 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 no. Closer. Cioè, proprio, guardate così. Ragazzi, fatemi sapere anche voi. Let me know what do you think. E, boh, raga. Stiamo a vedere anche. Perché ci sono milioni e milioni di categorie. Adesso, vabbè, milioni e milioni, l'ho detto per modo di dire. Però voglio sapere anche cosa ne pensate. Chi vincerà? Io tifo per Bieber. Comunque, perché il suo album è qualcosa di spettacolare. Veramente. Mi è piaciuto moltissimo. Adel, sempre la solita storia, sempre le solite canzoni, bellissime, meravigliose. Per carità, però, c'è, voglio dire, adesso basta anche. Cioè, io voglio Lana del Rey, raga. Lana del Rey. Ma perché? Perché non c'è? Lana del Rey voglio. La gente non capisce niente qua. Drake. Cioè, qua, a parte che in questa lista non c'è hip hop, tutta questa roba qua. Sarà lì dentro, comunque, Drake e banda. Io voglio Kendrick Lamar. Spero che ci sia anche lui. E staremo a vedere, comunque. Dai. Alla prossima, ragazzi. Io comunque farò le reaction. E poi dopo le metterò su. E... Ci vediamo. Alla prossima. Ciao. Bye, guys. Bye, bye. Ciao. 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 Grazie.